Perché frequentare la scuola Iside? In questa scuola fai un percorso spirituale, scegliendo tra una grande varietà di proposte e di insegnanti. Dal pendolo ai registri akashici, dai tarocchi al linguaggio non verbale, dal channeling angelico alle rune, puoi scegliere le discipline che senti maggiormente. Sono moduli pratici perché l'esercitazione e autodisciplina sono indispensabili per sviluppare i talenti sensitivi e approfondire la spiritualità. Scopri come usare diversi strumenti, come capire e gestire diversi tipi di energie e come entrare in sintonia con la saggezza universale. Ampli i tuoi orizzonti, ti arricchisci interiormente e senti la forza dell'amore incondizionato, capaci di trasformare la tua vita e quello di chi ti chiede aiuto. Programma su www.intuizia.com